Sì, innanzitutto ti racconto qual è la situazione qui. La gente ha provato a seguire la cerimonia d'apertura della Porta Santa e non lo ha potuto fare perché qui l'elettricità in questo momento manca ed è un problema che va avanti da mesi. Dicevi siamo al confine con la Turchia, la Turchia è oltre queste montagne che vedete alle mie spalle e da qui la notte si sentono benissimo i cacciabombardieri turchi che vanno a bombardare le postazioni del PKK kurdo che si trovano proprio in cima a queste montagne. Quelle che vedete invece sono delle abitazioni che erano dei ruderi e sono diventate le case invece di centinaia di famiglie yazide perché qui nell'agosto dell'anno scorso sono arrivate decine di migliaia di profughi dalla piana di Ninive, da Mosul e dalla città di Shingar, fuggite dalla violenza jihadista. Qui abitavano 30.000 persone, oggi ce ne sono almeno il doppio, persone alle quali si è dovuto dare assistenza in questo periodo e l'unica assistenza che hanno avuto è stata quella della chiesa locale. Chiesa locale supportata però anche dalle chiese di Mezzomondo tra cui in prima linea c'era quella italiana che ha finanziato una serie di interventi qui a favore dei profughi e il senso della visita che la delegazione composta dal segretario generale della CEI Nunzio Galantino e dal direttore della Caritas Don Francesco Soddu hanno fatto. Ieri è stato proprio quello di rinnovare l'atto di vicinanza a queste persone e di dire vi aiutiamo e non vi abbandoniamo. Non abbandonateci è stata la richiesta che è stata fatta fin dal primo momento da queste persone sulle quali ora grava ovviamente un grande punto interrogativo. Cosa sarà di loro nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Sono 15 mesi che sono fuori dalle loro case e nessuno sa dire se e quando potranno tornarci. Quindi il gesto di venire qui e di continuare ad offrire loro assistenza ha avuto un significato particolare ed è stato apprezzato molto.